Ragazzi, ciao, buongiorno. Allora, oggi ho visitato Villa Floridiana, ci mancava. Abbiamo anche questa, le metto su un video breve, di bellissimi articoli museali. Un bellissimo museo con un bellissimo giardino. Fermiamo anche questa presenza. E un saluto anche da qua. Un bacione, un buon lavoro. E aspettiamo anche voi. Non perdetela. Ciao.